Grazie. E si lancia tutte così e l'acqua fresca esce. Si fa un lancio più lungo, ti ha già dato due volte, ho visto come il cucchiaino che c'è l'acqua fresca e l'acqua fresca e l'acqua fresca e l'acqua fresca. Grazie. 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 Dopo arrivare, se ce la fai, arriva là sotto un casino. Grazie a tutti. Grazie. 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 Tac, guarda la pinna, il dorso va, i rintini rossi sulla dorsale, e queste sono le trattate sono le cianti ardottone, bella rotta madonna guarda piccina eccola bella madonna si si dio dio buono piccana no qui ci sono anche queste trovi oddio oddio tre volte qui ci sono Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.